Cinque anni di Roboval, era il 2012 e adesso si arriva in fiera. Sì, la quinta edizione c'è davvero stupire a tutti perché la porteremo all'interno di Model Expo Italy, la fiera in Italia più grande a livello italiano di modellismo. 70.000 visitatori, l'anno scorso un trend in forte crescita perché ha fatto più 20% rispetto all'anno prima e all'interno di Model Expo avremo proprio l'area, sarà gestita da Roboval, in cui concentreremo tutti i maker del nord Italia, per cui avremo i FabLab che stanno nascendo in giro per l'Italia, soprattutto in Veneto, grazie alla regione Veneto ha avuto un grosso sviluppo, avremo le scuole veronesi della provincia di Verona, ma anche da fuori Verona, che si confronteranno in gare di robotica, in gare sulla tecnologia, avremo gare di droni e poi tante anche aziende e maker che esporranno i propri progetti. Un'edizione 2016 da non perdere. Assolutamente sì, 21 e 22 maggio presso Verona Fiera.